Non capita niente, sono un artista, potrei dipingere la Cappella Sistina. Nega ogni addebito e reagisce con frasi sprezzanti e provocatorie il presunto imbrattatore di Palazzo Bonaguro. La polizia locale non ha il minimo dubbio, una pattuglia lo ha fermato domenica alle 8, portava il giubbotto scuro e i due zaini con cui lo hanno immortalato quattro ore prima le telecamere di Via Angarano. Siamo andati in luoghi che di solito accorgono queste persone che magari tentano di allontanarsi la città, in questo caso la stazione, e dopo un'ora circa l'abbiamo intercettato e portato al comando. È un 41enne di Udine, già noto alla giustizia e conosciuto nel mondo dei writer. Sabato ha partecipato a un festival hip hop che offriva liberi spazi di espressione creativa al centro giovanile. Gli agenti gli hanno sequestrato nove bombolette spray e due bidoncini di vernice, è stato denunciato per danneggiamento e colpito da foglio di via per quattro anni da Bassano. L'amministrazione si costituirà parte civile. Gli anni sono così, da profano sono di decine di migliaia di euro tra quelli a privati e alla cosa pubblica. Ci auguriamo che abbia disponibilità finanziare per poter risarcire tutti. Sarebbe stato sempre il bandalo friulano a lasciare il segno anche in altri punti di Angarano, sul Ponte Nuovo e in via Mure del Bastion. Cinque privati hanno già sporto denuncia. Altri graffiti comparsi la stessa notte non sarebbero attribuibili alla medesima mano. Quello che abbiamo visionato sembra che ci sia un altro soggetto che abbia partecipato ai raid. Quindi le indagini proseguono? Sì, proseguono per identificazione di altri soggetti che possano aver deturpato la città.